Nel 2023 l'Italia è salita al secondo posto tra i principali paesi europei per quanto riguarda la donazione degli organi. Il tasso raggiunto è stato di 28,2 donatori a ogni milione di abitanti, dietro alla Spagna, leader mondiale, ma davanti a Francia, Regno Unito e Germania. A confermare il risultato è l'ultimo report analitico dell'attività annuale della Rete Nazionale Trapianti, pubblicato sul sito del Centro Nazionale Trapianti. Il report, che approfondisce i dati preliminari pubblicati nel gennaio scorso, conferma che il 2023 è stato l'anno migliore di sempre per donatori segnalati, donatori utilizzati e trapianti effettuati. Di questi, 198 sono stati realizzati attraverso programmi di urgenza nazionale, mentre 197 trapianti hanno riguardato pazienti pediatrici. Particolarmente numerosi i trapianti da donatori a cuore fermo sono stati 444, il doppio dell'anno precedente. La crescita complessiva dell'attività di donazione e trapianto si è tradotta in un leggero calo del numero di pazienti in attesa di ricevere un organo. Al 31 dicembre 2023 erano 7.941, di cui il 76% aspettava un rene, contro gli 8.112 di fine 2022. Per quanto riguarda invece l'attività di prelievo degli organi, sono stati 221 gli ospedali nei quali è stata realizzata una donazione di organi nel 2023. Infine, quest'anno è presente anche un focus sui trapianti sperimentali di microbiota intestinale, un programma che al 31 dicembre 2023 ha visto la realizzazione di 214 interventi in 10 centri autorizzati in tutta Italia. Grazie. Grazie.